SONNY Ma, Sonny, davvero, dobbiamo trattare. Lo vedi? Lo vedi? Ecco che esce l'irlandese che è in te. Tutta sta merda sullo stare calmi, non complicare le cose. Ma, non per mancarti di rispetto, Tom, ma un consigliere italiano tirerebbe fuori ste stronzate solo con un coltello alla gola. Sonny, sei mio fratello, ma a volte... Cristo, Tom, mi dispiace. Ascolta, so che sei mio fratello fin dal giorno che ti ho portato a casa. Ma guardiamo in faccia la realtà. Dobbiamo combattere. I Cuneo hanno colpito due dei nostri mentre mangiavano qualcosa. Dannati animali, non li hanno nemmeno lasciati finire. È l'ora della vendetta. Qual è il piano? Colpiremo un bar dei Cuneo. Passeremo in auto e faremo a pezzettini quel posto. Boom! E poi accenderemo un bel fanno. È un grande onore. Eh? Eh, va bene. Andiamocene di qui. In questa vita. La nostra vita. Non ci sono premi in parte. Rieschi solo di finire in fondo al fiume. Oddio, se lo sanno. Non è un lavoro da errore, ragazzo. Si spara da lontano. Si spara alla gente quando la puoi guardare dritto negli occhi, da vicino. Per avvicinare gli uomini e fargli saltare la testa. E capita che a volte il sangue schizza sul tuo vestito migliore. Allora, ragazzo, che dici? Te lo senti, eh? Qual è il piano? Il piano? Puoi sapere il piano, eh? Ecco il fottuto piano. Giova che sta rifornendo il locale e poi ratelo al suono. Questo è il mio piano. Loro colpiscono noi. E noi colpiamo loro. Ma che... Mi dispiace. Ok, ci siamo. Puoi guidare l'assalto o la cosa ti fa semplicemente cioppa paura? Venga! Puoi guidare l'assalto o lontano. Puoi guidare l'assalto o lontano. Azzalto. Io c- A- 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 Urg! Ausg A presto! Ti spaccherò il culo! Chi rifornisce questo buco? Il magazzino è gestito dai cuneo, è tutto quello che so. Pezzo di merda, credi di poterti infilare nel mio jacket? Fottiti! Sì! 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 Grazie a tutti. 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 No, aspetta. Sono solo un uomo d'affari. Non voglio altri guai, ok? Avreste dovuto pensarci prima di scatenarci con tutti i tuoi ragazzi. Ti dirò ciò che vuoi sapere. Riceviamo rifornimenti da Midtown. Si decide tutto a Midtown. Ah, e da chi arrivano? È il generale Patton a vendervele, eh? Ci sei quasi vicino. Pistole, molte pistole. Hell's Kitchen, un vecchio molo. Alleluia, siamo a Natale, eh? C'è di più. C'è di più, Arti Manzarano. È il tuo capo laggiù. Ehi, senti, senti questo Arti Manzarano. Eh, questo è un bel colpo, ragazzi. Non sapevo che lavorassi per i cuneo. Posso andare adesso, eh? Si tratta di affari. Solo affari. Ah, certo, certo. Hai proprio ragione. È ora di ritirarsi dagli affari, amico mio. Per favore, per pietà. Ho figli. Dei bambini piccoli. Tutti perdono qualcuno. Non sei un senza cuore come gli altri. Lo sento. Non sei un senza cuore come gli altri. Troviamo Grassone. Eh, facciamogli un'offenda. Tu sei spazio. Stop. No, non sei un po' Troviamo il capo di questa operazione da due soldi. Troviamo i 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 soldi.